Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sulla A1 per lavori chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sul raccordo Lucca-Viareggio fare attenzione per un veicolo in fiamme segnalato tra Lucca Ovest e Massarosa al chilometro 78 in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di Poggi Bonsi Nord in direzione Siena in entrata e uscita. Sulla Statale 1 Aurelia è chiuso per lavori lo svincolo di Braccagni, scambio di carreggiata tra Braccagni e Giuncarico. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!